Romina Pover torna se tornasse con Albano, farebbe la felicità di tantissime persone Ma pare che adesso i due abbiano interessi e passioni diverse. Solo la musica li lega Romina Pover è molto attiva sui social. La cantante ama aggiornare i suoi fan circa le sue attività, o semplicemente condividendo il suo pensiero, e la sua filosofia di vita Anche se i suoi follower su Instagram non sono tantissimi, a differenza di tanti dei suoi colleghi la cantante sa che può contare sull'amore di tantissimi fan Romina in vacanza in Messico.L accantante viene più raramente nel nostro paese. È in Italia, che ha trovato l'amore, che ha partorito e cresciuto i suoi figli, ma la sua terra di origine, è la bellissima e affascinante America, che ha girato in lungo, e in largo con una bella macchina fotografica insieme alla figlia Romina Romina Pover Ma a quanto pare la Pover non era sola.L accantante ha colto l'occasione per far visita ad una delle persone più carte della sua vita, la sorella Tarin Pover Le due erano molto legate da piccole.Ma mentre l'una ha trovato un porto sicuro in Italia, l'altra è rimasta in America La foto con la sorella, una persona speciale.L la sorella di Romina, ha sempre avuto un rapporto molto speciale con lei, soprattutto quando la cantante dovette attraversare il grande caos mediatico scatenato dalla scomparsa della figlia Illenia, che ha sconvolto tutto il mondo, e di cui si continua a parlare Romina e Tarin sono ancora tanto unite.E entrambe hanno avuto un passato d'attrici essendo figlie d'arte Con due genitori attori, non poteva che essere così la loro vita, all'insegna dello spettacolo La bella Pover ha riservato uno scatto molto carino alla sorella.Dove lei appare su una spiaggia massicana La bella Pover ha rispettato uno scatto molto carino alla sorella